Il progetto editoriale Mirella Mi occupo sostanzialmente di reportaggio sociale quindi mi trovo spesso a dover affrontare queste tematiche Quando mi sono trovato ad affrontare il morbo di Alzheimer ho deciso di farne un progetto Senti, e le persone che compaiono anche tecnicamente come sei riuscito a coinvolgere tutto questo materiale umano su cui lavorare? Ma semplicemente esponendo il progetto, facendomi accettare come fotografo e far accettare la presenza della macchietta fotografica nel contesto familiare Un progetto che è durato 4 anni quindi comunque c'è stato modo di far arrivare tutto lentamente nel migliore dei modi Quindi insomma c'è stato anche un lavoro abbastanza umano, abbastanza lungo per conquistare la fiducia Per poter poi avere anche autorizzazioni per pubblicare queste forme Sì, in realtà è una coppia che conosco da una vita quindi ovviamente quell'aspetto ne è venuto un po' meno Nel senso che una volta che hanno accettato comunque di farsi fotografare E poi tutto il percorso insomma è comunque stato lento e tassello dopo tassello fino a raggiungere una certa invisibilità Che poi era quella che andavo a cercare per cercare di ottenere un lavoro quanto più vero possibile Senti Fausto, abbiamo sentito nella presentazione che hai detto che questo punto libero è stato peraltro presentato Un progetto anche presentato in altri paesi Ecco, volevo chiederti dove e poi c'è nato ad alcune difficoltà specifiche proprio dell'Italia Nel farlo accettare, nel promuoverlo Ecco, di che si tratta in modo più specifico? No, il lavoro è stato assolutamente accettato sia in Italia che negli altri paesi Sì, il crowdfunding ha visto una grande partecipazione e per lo più ovviamente di gente italiana Per quanto riguarda poi la fruibilità del lavoro è probabilmente dedicato a settori che magari sono più presenti all'estero Piuttosto che in Italia con gli stessi giornali che magari trattano più determinati argomenti piuttosto che il nostro paese Ho capito, senti, un'ultima domanda volevo farti Ovviamente parlare dell'Alzheimer in Italia vuol dire anche in qualche modo avere a mente anche quella che è la struttura sanitaria italiana Ciò che comporta, cioè quello che dovrebbe essere l'ausilio per famiglie, per persone Ecco, hai avuto modo di entrare in contatto anche con questo tipo di difficoltà Quando hai conosciuto tutte queste persone nel fare le fotografie Che poi sono anche cose che aggravano una situazione già di per sé ovviamente pesante Ma guarda sì, la situazione a livello sanitario in Italia, indipendentemente dall'Alzheimer Cioè lo conosciamo un po' tutti, c'è una serie di burocrazie dietro, grandissime Che ovviamente non permettono di usufruire di determinati vantaggi sia assistenziali che di struttura Proprio per una serie, una problematica legata proprio alla burocrazia Poi ultimamente si sta muovendo tantissimo l'aspetto sanitario in Italia Per quanto riguarda i centri specializzati per l'Alzheimer Certo, in relazione alle persone colpite da questo morbo sono comunque ancora poche Fausto, in chiusura, come possiamo acquistare questo libro se su internet o è distribuito in altro modo? Allora, il libro intanto per chi lo ha acquistato attraverso il crowdfunding Potrà aver modo di ritirarlo direttamente alle presentazioni o gli verrà spedito direttamente a casa Per tutti gli altri quelli interessati attualmente è disponibile sul mio sito www.faustopodavini.eu E da gennaio dovrebbe iniziare la distribuzione nelle varie librerie Grazie a Fausto Podavini Grazie a Fausto!